Ciao ragazzi, io sono Cerofis, oggi siamo qui con Multicraft Dov'è? La mia casetta! No, la mia casetta Che mi ha preso la casetta? Ragazzi, è sparita la casetta Adesso vado... un attimo che sta caricando con il mon... Pollo! Pollo! Adesso vado là e li uccido sti soldi Se ci sono ancora Mi sa proprio che non ci sono più Cosa, caspita, è caduto qui? Oddio Ragazzi? È tutto un po' distrutto, eh? Non c'è nessuno Va bene Ok Ok ragazzi, oggi Masterante dovrebbe venire Io so che c'è perché l'ho visto nella... Dove si trova? Però adesso non so dove sia Quindi aspettiamo Ok Masterante ha detto che c'è È dal castello Questa parte è dal castello Ora le facciamo il castello Qual è il dietro? Eh Sono Dentro Ora Ok Lol Ah no, non è lui che È quello qua Guarda Tieni, mangio crudo Ecco Aspe Wow Ok Aspe cuochi Eh Ah Un banco da lavoro Eh Ok Diamo un bel po' di... Questo 20 Petti di legno Adesso vediamo Non è neppure un peccone Che schifo Vabbè Sta morendo proprio di fame Allora Ok Bel puttone di ferro Eh sì Di ferro Di piedi 3 Ok 11 Ok Tanto che lui si organizza E qua mi faccio una fornace Ragazzi Tutto distrutto Tutto Ok mettiamo tutto a po' c'era Adesso Intanto Questo E poi anche il mio pollo Cotto Tutto Poi Si So Dove Andare Ok Uno È già pronto Uh Perché Scusa Guarda Gli altri se li lascia a te Ecco Aspetta che finisce di cuocere Ok Sì Questo è per te E anche questo Vai Ecco qui Mangiateli Le Va bene Direi che possiamo anche andare Ah Ah Andiamo Ok ragazzi In questo episodio andremo a cercare Dei minerali Perché Ci serviranno Di minerali Se dobbiamo Sopravvivere qui Ok Ci stabiliremo In un luogo Strano Quella montagna Adesso Ci sei? Ok Va bene Allora Diamo un po' Il cibo ce l'abbiamo Quindi adesso basta Proseguire L'abbiamo anche un po' di torti Tre Meglio che niente Vieni Ok Uh Cibo No questo è una pecora Io Vabbè Pecora lasciamo stare Prendiamo il chicken Chicken Ok Poi lo cuocio Boh Che stai facendo? Stai registrando Ciao youtube Sì Sì punto esclamativo E' tratto No La notte No Notte No notte Ok Aspetta dobbiamo raggiungere Cima della montagna Però prima uccidiamo il maiale Non ho parole Mamma mia Un'altra cosa epica Ma no Io ora non ci vado Io vado in cima Qui poi Ehm Ne ho già pass Ne ho già passata una Ah Il tendinino Ma cos'è? Strade Uddio ma Perché Si è tutta sta roba qua Vabbè Qualcuno ha detto Ciao tubo Ok dobbiamo Wow Aspetta devo risponderli Sì Ok Allora Vediamo un pochino Vediamo gli alberelli E vediamo uno qui Allora Fare un piccolo rifugio Ok 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 dobbiamo scavare un po' in basso Ok direi che qua potrebbe bastare Dove sei? Io ho un piccolo di legno Tieni questo Così che poi magari te ne fai uno anche te Ok eccoci qua Andiamo Ah Vabbè Se ne avevamo una Chi di crafting Banco di prova Uh Allora Allora qua c'è qualcosa Il che non mi piace Perché potrebbe Boh io non ci vado qui perché Si potrebbe morire Quindi lo vorrei evitare Ok Allora Inizio la lotta Ah ti hai chiesto una spada Un'ottima Allora dobbiamo Cercare tipo dei mostri Tipo 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 Allora Io Scavo Servono Minerali Ok Quindi ragazzi adesso mi metto a scavare E ci vediamo dopo Credo che non sappia che sto scavando dalla parte opposta io Vabbè così magari troviamo più cose Ok ragazzi allora abbiamo risolto il problema a carbone Per adesso abbiamo Se ne ho deciso di fare due torce Poi andiamo a cercare altro legno Uh 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 Wow Casperina Udio questa è la venta Dove metto Ok lasciamo perdere questa caverna qui perché Tanto Ma io non scavarti Quindi vado da sotto Ragazzi ferro 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 Allora lui serve nel cibo Adesso io vado subito a dare Ok Ok Allora Ho trovato del ferro ragazzi che è importantissimissimo Ci servirà Subito vediamo La fornaccia è qui Sì eccolo qua Quindi adesso mi piace il Aspetta io lascio qui a lui Così che poi Le trovo a pantone Ok Intanto a me serve un piccone di Legno Perché è finito esattamente No no io ce l'ho già I bastoni Non è un casino di bastoni Serve un piccone di pietra Perché l'ho finito Ok Quindi adesso Bisogno a scavare Ok È il momento Di cercare Il ferro Che abbiamo già trovato Adesso basta che lo raccolgo Ragazzi è una fortuna assurda Quattro pietra del ferro Uno Due Uh Tre Quattro Cinque Uh pure carbone E sei Qui possiamo fare La spada di ferro Per entrambi Ma che sederino Ok però non devo dirlo Non bisogna dirlo Se si ha il ferro Perché magari qualcuno Ti cerca Poi qualcuno che gioca Sa che hai il ferro Ti viene a cercare Per uscire E ti prende qui E non è bello Ok quindi qua c'è un casino Di carbone E noi abbiamo un casino Di torci Adesso continuo un po' a scavare Va Ok ragazzi Direi che per oggi Può bastare Noi ci vediamo al prossimo episodio